Ciao a tutti e bentornati sul canale YouTube di noi che usiamo Lightburn. Oggi andiamo a vedere una funzione un po' particolare ovvero si andiamo a cercare di collegare il nostro laser al wifi. Per questo video utilizzerò il LAKMER P1S PRO quello da 5 watt e mezzo da 6 watt. Allora vabbè perché uso questo perché l'altro configurato già tutto qui non aveva ancora configurato la connessione wifi così vediamo passo passo quello che dobbiamo fare per andare a utilizzare il nostro laser in modalità offline ovvero sia andare a realizzare un progetto sul laser senza avere la connessione con il computer. Andiamo a vedere come fare. La prima cosa importantissima è che anche se noi non abbiamo più il laser collegato al computer se lo portiamo in un'altra stanza se dobbiamo andare a fare una lavorazione in un altro posto eccetera dobbiamo sempre essere presenti durante la lavorazione perché ci potrebbero essere delle problematiche. Faccio un esempio. Vi si blocca il laser per un in qualsiasi motivo con il modulo attivo si potrebbe anche scatenare un incendio abbastanza grave e se noi non siamo nelle immediate vicinanze i problemi potrebbero essere veramente grandi. Quindi attenzione i laser vanno sempre supervisionati mentre lavorano. Veniamo alla premessa che non è più di origine di precauzioni è una premessa di origine di macchina. Allora gli ultimi laser che sono stati commercializzati hanno tutte delle schede madri con un processore da 32 bit solitamente sono macchine che derivano dalla maker base di LC32 poi personalizzate delle varie case ma quasi tutte hanno due cose che sono molto importanti per poter lavorare offline il wifi e l'alloggiamento per una schedina usb come questa che vi faccio vedere adesso questa micro sd piccola 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 dove noi possiamo andare a salvare i nostri progetti. Allora come vedete sul piano di lavoro io ho già acceso light bulb non l'ho ancora collegato perché voglio farvi vedere una cosa vedete che ho qui scelto il mio laser ma non ho ancora scelto la porta di comunicazione. Andiamo a collegare adesso prima devo accendere logicamente il laser e quindi potrò fare, vedete ho qui di dietro il mio laser si è acceso, andrò a scegliere la porta COM, nel mio caso la porta COM4, si andrà a collegare con la porta e in questo laser ma anche in altri solitamente viene già questa schermata non tutti perché questi sono messaggi che manda il firmware quindi ci sta che non le vediate e vedete che ci sono dei numeri strani. Cosa sono questi numeri strani? Quando vedete qui mode STA SSD è una modalità di collegamento con il wifi diciamo che se non l'avete mai usato non ci avete mai messo le mani quello che troverete se lo trovate poi vi faccio vedere come si fa vedere se è attivato il vostro laser o meno vedrete questa modalità AP che vuol dire access point ovvero ossia che possiamo collegare la nostra macchina in access point cioè in questo momento il laser si sta creando una rete sua propria. Allora se invece non vedete questi numeri molto probabilmente il vostro laser anche se ha la possibilità quindi è una macchina abbastanza recente del wifi perché è di default con la scheda molto probabilmente la casa non ha deciso di farvela vedere questo succede succede in alcune marche succede per una scelta di marketing diciamo così del costruttore dove decide di non farvi vedere una certa implementazione perché ritiene il caso che magari questa implementazione deve essere data solamente a una macchina di un valore più elevato eccetera eccetera sono cose che scelte opinabili o meno ma sono scelte del costruttore. Come si fa a vedere se la vostra scheda magari non vi fa vedere le cose ma è possibile farlo? semplicemente con un comando qui in console la prima cosa che vado a scrivere guardate io basta che scrivo $ESP115 allora questo cos'è? è un'istruzione che io chiedo alla scheda madre dicendo mi dici per favore come valore di ESP115 che cos'hai? e lui mi risponde on quindi vuol dire ESP115 io vado a interrogare il Wi-Fi e mi dice è attivo quindi io da questo punto di vista dovrei essere a posto andiamo avanti una volta appurato questo dobbiamo andare a fare un'operazione sul nostro computer ovvero se dobbiamo andare a far collegare e a far dialogare il nostro Wi-Fi del computer con il Wi-Fi del laser allora io vi faccio vedere quello che faccio con Windows 11 su Windows 10 più o meno i passaggi sono i soliti quindi io vado ad aprire diciamo le configurazioni della rete che è questa vado a cercare con i dispositivi dispositivi che sono disponibili e che vedete è O fra tutte le reti quindi la DSS, se c'è il Wi-Fi eccetera eccetera e così via vedo anche e magari lo riconoscerete perché io ho un Acmer P1 per cui ha questo nome altri avranno altri nomi che solitamente sono evidenziati anche dalla marca del vostro laser non so Atomstack, piuttosto Sculpon oppure Ingraved cioè ce ne sono di vari tipi se vedete una cosa del genere cliccate sopra questa dicitura vedete? questo è una rete che io posso fare perché il mio laser è un access point cioè io ci posso accedere proprio come access point cioè è una rete sua che si crea lascio connetti automaticamente e faccio connetti quindi mi si scollegherà dalla mia rete Wi-Fi quindi con questo computer in questo momento finché è attiva questo access point non potrò andare a vedere vari siti eccetera eccetera quindi momentaneamente poi vi faccio vedere come si fa un'altra cosa questo laser non potrà uscire quindi ci sarà un collegamento con l'Acmer nel mio caso con il laser è qua finito si è collegato poi vedete dice internet non disponibile però il collegamento io ce l'ho infatti se io vado a ridurre questo faccio così vedete che non ho più il ma ho una specie di mondo di mappa mondo che mi sta ad indicare che in questo momento io sono collegato non con l'internet fuori ma con qualcosa a questo punto io vado ad aprire un browser e vado ad aprire il browser di a caso uno dei miei e vado a mettere l'indirizzo che abbiamo visto qua se ce l'avete altrimenti vi faccio vedere come si fa si fa così ve lo faccio vedere facciamo prima ritorniamo un attimino qua nelle impostazioni andiamo reti disponibili in questo momento siamo collegati con acmer andiamo a vedere qui in fondo e vedete che qui dove c'è serve dns ipv4 avete questo numero qua 192 168 4.1 che è l'indirizzo di quel access point quindi del mio wifi del mio laser ok questo andiamo a richiudere e io ci vado a mettere proprio quel numero lì 192.168.4.1 do invio mi si apre magicamente questa schedina ok questa pagina questa cos'è ve la apro un pochino più grande vi faccio vedere che questa è niente altro che un'interfaccia web del nostro laser infatti io posso andare a comandare il laser da questa interfaccia web quindi se io vado qua quando si illumina di blu anzi facciamo prima verso l'alto vedete mi si sta muovendo verso l'alto il laser a questo punto io potrei andare anche a togliere la faccia l'interfaccia com quindi potrei andarlo anche a staccare quindi se questo è in un'altra stanza funziona benissimo anche così quindi io vado a spostare il mio laser poi cosa faccio questa schedina che vi dicevo prima contiene un file che posso lavorare offline tramite questa interfaccia perché vedete qui c'è una piccola sorta di menu faccio così SD file in questo momento non c'ho niente dentro perché non ho ancora inserito la schedina la vado a mettere allora ho inserito la schedina SD nel laser perché come vi dicevo prima tutti i laser che hanno il wifi hanno un alloggiamento per inserire una schedina SD come quasi tutti gli ultimi modelli dei laser quelli come dicevo prima equipaggiati da una scheda 32 bit come faccio ad andare a cercare il laser ho messo la schedina do il laser il file ho messo una diciamo una una schedina dentro clicco qui in questa icona mi fa vedere tutti quei file che sono in quella schedina nel mio caso io ho un piccolo progetto che si chiama prova offline G-code perché in Lightburn io ho fatto un piccolo progetto adesso ve lo faccio vedere ho fatto un rettangolo poi ho fatto un cerchio sapete che sono amante di queste cose faccio così seleziono tutto li vado a unire con una booleana e poi dico file salvagi code vado a metterlo dove interessa a me quindi praticamente lo voglio mettere in quella schedina me lo salvo in quella schedina andrò qui sulle risorse del computer e vedrò appunto dove andarla a mettere in quella schedina che poi mi servirà dall'altra parte allora cancelliamo tutto che questo non mi serve più e ritorniamo alla nostra interfaccia web che è questa a questo punto cosa faccio? posso dargli e lo vi faccio vedere prima ho fatto vedere muovere adesso vi faccio vedere clicco questo quindi lo vado ad aprire praticamente lo evidenzio e poi gli dico di fare il frame dice ok vuoi mandare questo guarda che il progetto ti partirà con un frame qua manda e guardate l'ho salvato in coordinate assolute così mi andrà a fare il diciamo il taglio proprio nel punto preciso in cui l'avevo fatto su Lightburn ok e questo ora non lo sto a fare tutto però questo è il frame e poi io posso andare anche a una volta fatto il frame che posso chiudere e posso dire di andare a lavorarlo logicamente ora non lo mando e anche perché lì in Lightburn io avevo messo i parametri giusti del taglio della potenza eccetera eccetera e così via qui c'è questa finestra della della che a volte dà un po' noia noi ritorniamo qua sopra andiamo in Control scendiamo un attimino togliamo questo Verbose Mode e non vi non vi correrà più anche perché è un po' fastidioso ok questo abbiamo visto come si vede il progetto su l'interfaccia web del computer c'è anche un'altra possibilità adesso la andiamo a vedere allora come vi dicevo prima andandoci a connettere con il laser e col computer tramite l'assess point del nostro laser perdiamo la possibilità di andare su internet quindi cosa facciamo dobbiamo andare se vogliamo se non ci interessa possiamo anche utilizzarlo solo in questa versione ma possiamo anche andare a configurare il nostro laser in modo che mi diventa un qualsiasi device della mia rete quindi praticamente gli vado a dare gli andrò a dare un indirizzo gli andrò a dare una un certo certi dati in modo che il laser sa che non si deve più non deve più contattare l'assess point ma va a diventare un normale device quindi una normale apparecchiatura che si collega alla mia rete casalinga nel mio caso appunto la rete che ho in casa in modo che io possa andare mentre faccio determinate cose mentre il laser lavora eccetera eccetera posso andare tranquillamente anche a cercare qualcosa su internet il che non è male perché altrimenti mi perdo quella connessione se mi arriva un messaggio non lo vedo eccetera eccetera ok andiamo a vedere come si fa per poter utilizzare il laser come un qualsiasi device come dicevo prima ho bisogno di una piccola cosa allora ho bisogno di un tool che solitamente è fornito con diciamo il corredo della macchina solitamente nelle macchine non tutte lo fanno però al limite ce l'avete questi file ce l'avete online nelle chiavette che vi forniscono quando arrivo al laser ci sono anche dei file un file di questi per fare quello che vi sto facendo adesso è il makerbase tool che è questo adesso ve lo faccio vedere un attimo che lo rimetto qua me lo metto qui di fianco così lo vedete questo è un collegamento vi metto in descrizione il file se non ce l'avete se non lo trovate se non volete andarvi a sbattere a cercare a destra manca vi faccio vedere come appunto come scaricarlo metto in descrizione il file per andarlo a poterlo scaricare e vi faccio vedere come si usa allora siamo ancora collegati con l'assess point e va benissimo a questo punto vado a chiudere anche il mio browser quindi dove c'era dove c'era prima l'interfaccia ve la faccio rivedere se vogliamo andare a rivedere 192.168.4.1 solitamente sono sempre quelle ah mi sono dimenticato di dirvi quando vi connettete la prima volta all'assess point qui in risorse del computer in risorse di rete scusate impostazioni di rete vi verrà chiesta la password la password default di tutti i laser è semplicissima 1 2 3 4 5 6 7 8 non vi potete sbagliare quindi il nome della rete è quello che vedete che potrebbe essere il vostro computer la password 1 2 3 4 5 6 7 8 molto molto semplice mi vado a disconnettere dalla da questa interfaccia chiudo mi vado a a disconnettere anche dalla porta com del mio laser quindi vado qua metto scegli oppure spengo potrei spegnere anche l'ip ma non lo faccio in questo caso vado con due clic ad aprire io ho perso un collegamento di far prima andate lanciate la procedura che è questa che è utile per fare alcune cose prima cosa è per andare a rifare il flash del nostro laser se abbiamo avuto dei problemi andiamo a rimettere praticamente le impostazioni di fabbrica per fare quello che vi faccio vedere adesso invece io faccio questo configuration tool ecco vedete che io qui ho due porte perché una è una porta che si è collegato da solo questo diciamo questo programmino e una è la porta com4 quella dove io ho collegato il laser e quindi la vado a connettere in questo modo ok quindi in questo modo io ho fatto la connessione fra questa procedura questo programmino è il mio laser andrò a mettere qua le impostazioni quindi il wifi name il nome del wifi della mia rete e andrò a mettere la password della mia rete nel mio caso adesso io scurirò un po' le password però vado a mettere quello che mi interessa mi raccomando maiuscole minuscole e un'altra cosa che mi raccomando è che come vedete qui dice accetta solamente lettere e numeri quindi se avete una password del vostro wifi di casa che ha dei simboli strani questa procedura potrebbe non funzionare ve lo dico perché potrebbe capitare so che a qualcuno è capitato quindi io qui vado a mettere la mia password di rete e poi una volta che ho messo i dati wifi name e wifi password faccio connetti wifi vedete qui dice sto connettendo quella rete che tu mi hai detto e ci penso un po' si scarica un po' di cose e poi dice attenzione ecco te l'ho fatta adesso tu sei connesso si ma come devo fare capire come faccio a connettermi vado qua get ip e lui mi ha riconosciuto il mio laser e gli ha segnato un indirizzo di rete che è 162.1.138 ma non ha fatto solo questo e adesso ve lo faccio vedere perché vado a disconnettere questa questa porta quindi disconnetto quindi io posso riandare sul mio laser questo possiamo anche ridurla ancora non ci interessa più e andiamo a ricollegare il laser alla porta COM4 si connette vedete che prima era collegata a questa porta 192.168.4.1 che è l'indirizzo dell'assess point qui invece è 192.168.1.134 che è l'indirizzo di questo dispositivo all'interno della mia rete andrò ad aprire il mio browser come ho fatto prima quindi andrò su Chrome nel mio caso poi voi potete avere il browser che vi interessa e vado a scrivere l'indirizzo 192.168.1.138 vado a connettermi e mi dice attenzione non è sicura perché questo indirizzo è un HTTP non HTTPS diciamo continua sul sito vedete mi esce magicamente la stessa cosa di prima quindi adesso io ho il mio laser che non è più connesso come access point quindi che praticamente il mio computer è connesso a lui ma è lui che si va a connettere alla mia rete wifi e il resto funziona tutto uguale perché se io vado a muovere il mio laser vedete lo sposto mi va avanti e indietro qui ci sono velocità distanze eccetera eccetera questo lo vedete lo vedete un po' come volete voi ecco si muove tutto ho ancora la possibilità di andare a vedere i miei file ecco qui vediamo ancora la console e praticamente io ho fatto tutto quello che volevo fare quindi posso fare tranquillamente le mie lavorazioni con offline ok potrò inoltre continuare a lavorare anche su diciamo su lightburn perché non ho scollegato la porta com 4 e se andiamo a vedere ora vabbè se lo facciamo mentre sta lavorando facciamo dei pasticci però se io in questo modo qua ho la connessione però voglio andare a fare qualcosa sul mio laser qua sempre che non sia occupato l'altra parte fosse occupato l'altra parte non mi farebbe connettere comunque però è sempre meglio tenere separate le due cose quindi siamo a questo punto e vediamo tutto ecco adesso vi faccio vedere che c'è la possibilità di andare a utilizzare delle app sul cellulare quello che vedete qua è il mio cellulare e praticamente io posso ho scaricato due app una è della Acmer quella arancione l'altra è di Makerbase MKS le trovate tutte e due sul Play Store perlomeno io ho un telefono Android per cui lo vado a prendere lì sono molto simili anzi sono praticamente quasi identiche cambiano un po' i colori se volete la marca del vostro laser sicuramente se andate negli store per le app li trovate andiamo a vedere appunto cominciamo quello di Acmer molto semplice questa è l'interfaccia il collegamento si fa con questo si mette qui l'indirizzo si va a connettere vedete una volta che è connesso vai a andiamo al menu andiamo su Control e qui possiamo andare a muovere adesso non vi faccio vedere tanto la stessa cosa e l'altro si può andare a muovere il diciamo tutto l'ambaradan come prima anche qua oltre che al Control abbiamo il graving cioè graving in questo caso qua ora l'ho disconnesso momentaneamente connect connesso su e giusto graving mi va a cercare il il file e l'altro è simile praticamente non cambia quasi di nulla vedete vado a prendere questo c'è qualcosa di diverso lo vado a connettere perché non è connesso ok era già connesso perché si sa di prima quindi non ci sono grossi problemi vado sul controllo ho il controllo come quell'altro come dicevo cambiano i colori ma la storia è quella ho il i file che se fossi collegato con la schedina ci sarebbe dentro poi in questo caso qua ci sono per fare qualche vedete il ghirigore eccetera eccetera completamente inutile credetemi credetemi solo parola materiale qui ci sono perlomeno su questo i marker base ci sono un po' di oggetti che possiamo andarli a mettere a farli anche questo inutile credetemi se vi può servire per comandare il laser è un altro discorso utilizzate il control con quello lo vedete bene qui ci sono dei pulsanti se lo vogliamo veloce se lo vogliamo medio e così via io penso di avervi detto praticamente tutto spero che qualcuno faccia comodo ho avuto anche delle telefonate con qualche diciamo amico che mi chiedeva appunto di fare qualcosa perché effettivamente aveva la necessità di o lavorare con due laser o lavorare senza il computer perché le serve all'altro quindi non voleva tenere impegnato oppure vuole solamente tenere il laser non lontano come ho detto all'inizio non allontanatevi dal laser mentre lavora e però farlo senza il cavo perché magari può servire il cavo per un'altra cosa eccetera le modalità sono tante ma vi ripeto non 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 allontanatevi dal laser mentre sta lavorando specialmente se è legno se state incidendo sul vetro difficilmente prenderà fuoco se non prende fuoco magari il materiale sottostante però ecco non lasciatelo solo non lasciate mai solo il laser quando lavora io a questo punto vi saluto vi chiedo se vi è piaciuto di mettere un like se avete bisogno di qualcosa perché non riuscite contattatemi pure sapete che sono sempre disponibile a proposito ho messo una nuova funzionalità sul su il canale di youtube spesso qualcuno che mi contatta gli do la mano a risolvere un problema dice quanto ti devo io non voglio nulla appunto sappiatelo tutti che non è che io chiedo quando intervengo per aiutare qualcuno un compenso non lo faccio non l'ho mai fatto non ho intenzione di farlo c'era la possibilità mi ha dato youtube di mettere una specie di ringraziamento per chi lo vuol fare non è un abbonamento come ci sono già l'abbonamento è ricorrente tutti i mesi ma non ve lo chiedo non ve l'ho mai chiesto nemmeno nei video lo sapete ci sono qualcuno ha sottoscritto l'abbonamento e poi ora adesso c'è questa nuova modalità che è il super grazie super grazie cos'è e se vi è piaciuto il video cliccate un tag una tab che c'è sotto diciamo al video si chiama super super cliccate e se volete sostenere il canale sostenere il mio lavoro e magari aiutarvi e a fare determinate cose in modo che posso avere anche un piccolo tra virgolette piccolissimo ritorno economico per poter investire proprio nelle cose che poi riverranno a voi e il prossimo video vi verrà una cosa veramente bella a voi quindi vi dico già allenatevi con super grazie perché su quest'altro video sicuramente avrete voglia di ringraziarmi in questo modo ciao a tutti quindi like iscrivetevi al canale voi che non lo siete ancora iscrivetevi al canale e super grazie se volete ciao a tutti